Sì, video, ha fatto centomila iscritti, lo sai Siamo numeri uno, non c'è per nessuno, lo sai Che c'è? Se vuoi un video virale da noi devi andare Via, video, ha fatto centomila iscritti, lo sai Via, video, ha fatto centomila iscritti, lo sai perché Siamo numeri uno, non c'è per nessuno, lo sai Che c'è? Se vuoi un video virale da noi devi andare Via, video, via, video Via, video Via, video, oh Via, 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 via Via, video, ha fatto centomila iscritti, lo sai Via, video, ha fatto centomila iscritti, lo sai perché Siamo numeri uno, non c'è per nessuno, lo sai Che c'è? Se vuoi un video virale da noi devi andare